Un'altra bella vittoria per la Lube stasera contro Ravenna? Sì, abbiamo giocato comunque bene, ma dal nostro gioco dobbiamo togliere questi momenti quando regaliamo tanti punti all'avversario. Se cresciamo in questo modo, penso che contro le squadre più forti possiamo anche fare meglio. La soddisfazione anche da parte tua personale di una bella partita con il premio di miglior giocatore? Questo non conta, contano tre punti che abbiamo adesso in classifica. In nostra situazione non dobbiamo regalare punti a squadre che sono sotto danno. Allora abbiamo fatto bene, conta solo la vittoria. Si avvicina anche la sfida contro i Polacchi. Per questa Champions League è una squadra molto forte, ma avete le carte regola per batterla? Sì, penso che abbiamo fatto questa squadra forte, ma anche noi abbiamo qualche giocatore buono e penso che non siamo senza, come si dice, chance, senza opportunità di vincere. Allora se giochiamo bene penso che tutto è aperto. Soprattutto con questo pubblico, no? Con questo pubblico sì, ma anche dobbiamo preparare per un caldo palazzetto in Polonia. Ma vediamo, vediamo come va. Io sono molto contento che abbiamo beccato Beuhatou per andare là a casa, giocare davanti a tifosi che conosco molto bene. Sono molto contento. Grazie.